Buongiorno, buon anno. Non un discorso di prospettiva politica, ma spiccioli di demagogia a sostegno del tutto e del suo contrario, demonizzando la Russia per la presunta invasione dell'Ucraina, non stigmatizzando dovutamente la disumanità di Israele, citando la tragica contabilità dei soldati uccisi, ma non la contabilità dei nostri ragazzi uccisi in Kosovo dall'uranio, dalla esposizione all'uranio impoverito, assumendo che le armi sono strumento di morte, ma sostenendo un governo che le fornisce, facendo riferimento al risentimento maturato nelle periferie, ma non indicandone le cause ed i responsabili, lamentando la mancanza di lavoro dei giovani e le differenze di retribuzione fra quanti vivono nel disagio e di superprivilegiati di cui lei, Mattarella, è emblema, denunciando le difficoltà del diritto alle cure sanitarie, ma glissando su una sanità sgangherata e gestita da incompetenti, auspicando la sicurezza della convivenza garantita da uno Stato occupato dall'antistato, citando i diritti sanciti dalla Costituzione, ma umiliati dalla menzogna dell'emergenza, sollecitando l'ascolto degli anziani e tacendo sugli orrori consumati nelle RSA e sulla inefficacia del sistema assistenziale, chiedendo attenzione per le esigenze degli studenti parcheggiati in una scuola che ne viola all'innocenza, sdoganandola come educazione alle relazioni e che ospita imbecilli in grado di sostituire Gesù con Cucù, invitando al rispetto dei migranti della cui brutalità il Paese è ostaggio, richiamandosi al delirio tecnologico come generatore di progresso, mentre invece mira a liquidare le residue spinte emozionali, spirituali e culturali e a privilegiare l'involuzione, la censura e il controllo, auspicando che la rivoluzione transumana in atto resti umana, richiamandosi alla dignità della persona e ai valori fondati sulla solidarietà e sulla partecipazione al voto, ma eludendo le colpe di una classe politica screditata e la circostanza che il cittadino non voti, ma ratifichi solo le scelte delle segreterie dei partiti, appellandosi alla democrazia e all'esercizio delle libertà garantite e di fatto negate, sospese, soppresse dagli abusivi controlli di chi esige di orientare anche la vita privata del contribuente, invitando alla lotta all'evasione a fronte di un fisco vessatorio e criminale sostenuto da una intollerabile e diffusa corruttela, infine invitando all'unità della Repubblica invece rappresentata da un governo deficitario di legittimazione democratica. Non una parola sull'inquinamento dei cieli, sulla scandalosa emergenza pandemica, sui malori improvvisi e sulle innumeri morti non indagate, sul veto di una commissione di inchiesta che avrebbe evidenziato il ruolo e le responsabilità di tal Roberto Speranza, sulla copertura del segreto militare fornita all'inoculo di sieri spacciati per vaccini, sulla approvazione definitiva dell'aumento dell'elettrosmog con relativo innalzamento dei limiti di soglia di inquinamento elettromagnetico e sul mancato scioglimento a suo tempo della centrale di potere del CSM. Il suo concetto di democrazia tende a relegare il cittadino nella stucchevole definizione di complottista a beneficio della lobby dei 5G e della farsa dannosa e inutile delle mascherine e dei tamponi prorogati fino al 30 giugno alla faccia della Carta di Nizza, della Convenzione di Oviedo, della evocata Costituzione e della Legge 219 del 2017 a tutela dell'autodeterminazione sanitaria. Andiamo Mattarella. Avrebbe dovuto solo invitare chi di dovere a reintrodurre la verità e tutte quelle verità ormai comprese da milioni di italiani che se ne fottono della sua omelia sopravvivendo come possono e dei suoi auguri che respingono serenamente e coraggiosamente al mittente.